Mi hanno riempito il cuore di gioia i miei sera, perché la fiducia e il sostegno che ci hanno dato con questo grande risultato è stata davvero enorme. Sicuramente ci spingerà ancora di più a impegnarci con entusiasmo e determinazione e con la passione e l'onestà che mi ha contraddistinto in questi anni, con la consapevolezza anche di individuare le priorità e le esigenze di cui la nostra comunità ha bisogno, favorendo anche la partecipazione alle scelte amministrative, ai cittadini, perché solo collaborando tutti insieme e anche con la minoranza potranno ottenere dei risultati per il nostro paese. Siamo soddisfatti certamente del risultato, anche se non era poi proprio così scontato. Mi sembra giusto che ci siano ricambi, non forse altro per un confronto di esperienze. La cosa è stata portata avanti in primis perché, come forse lo saprà, è venuto a mancare il sindaco dell'anno scorso. È mancato improvvisamente Massimo Stringa, io e altri facevamo parte della lista e quindi abbiamo ritenuto di andare avanti, primo per, in ricordo di Massimo, cercando di portare avanti questa nuova forma amministrativa. Cercheremo di, con quel poco che avremo, che ci sarà a disposizione, di fare qualcosa di nuovo e di utile per il paese.